Anche questo mese sono venuti a trovarci nei nostri studi gli amici di Automobilismo. Scopriamo dunque subito assieme quali sono le novità che hanno voluto mettere in risalto nel numero che è appena uscito in edicola. Come hai anticipato tu Michele, Automobilismo è già in edicola da circa una settimana, si tratta del numero di giugno e noi andiamo ad approfondire tutti i servizi e le anteprime insieme a Dario Chiozzotto, giornalista della testata del gruppo di sport editoriale. Ciao Dario. Ciao a tutti. Grazie di essere tornato a trovarci, anche questa sera analizziamo le novità che avete provato e approfondito e partiamo dalla copertina del numero di giugno. Con l'italianità in prima fila, la nuova Giulia, ritorno alla trazione posteriore, cosa ne pensi di questa sportiva? Segna appunto il gradito ritorno di una vettura italiana in un segmento molto competitivo, quello delle berline premium. Noi abbiamo avuto la fortuna di provarla a balocco in pista, abbiamo assaggiato le qualità dinamiche della 2.2 turbodiesel da 180 cavalli, abbinata a un cambio manuale a sei rapporti. È una vettura di molta sostanza, è una vettura totalmente nuova, quindi pianale nuovo, motori nuovi, trasmissione nuova e appunto, come dici tu, il gradito ritorno alla trazione posteriore. È una vettura che offre grandi prestazioni, 230 km all'ora di velocità massima, poco più di 7 secondi da 0 a 100, ma soprattutto si lascia guidare con estremo piacere, perché appunto abbina un bilanciamento molto equilibrato dei pesi, 50-50 ass anteriore a sé posteriore, assetto riuscito e raffiancata anche da una versione meno potente da 150 cavalli e una molto più sportiva estrema, la Quadrifoglio, da 510 cavalli con uno V6 biturbo. Anche questa molto divertente da paganti in pista. Quindi grande guidabilità, mentre grande comfort per quanto riguarda una sorella, diciamo così, del marchio Alfa, mi riferisco alla Fiat Tipo, rimaniamo quindi in casa nostra perché tra le impressioni avete approfondito la nuova Tipo in versione 5 porte, ma anche la Station Vengo che ha tanto spazio, mi dicevi. Esatto, sì, anche in questo caso è una vettura di molta sostanza, affianca la Trevolumi che è stata già introdotta in commercio da qualche settimana, la 5 porte e la Station Wagon completano la gamma, in questo caso abbiamo provato il motore che probabilmente sarà il più richiesto, il 1.6 da 120 cavalli turbodiesel, oltre 500 litri di bagagliaio, è una vettura molto concreta, ma non per questo povera, con interni ben rifiniti, spaziosi, confortevoli. La versione provata iniziava anche a costare un po' di più, diciamo, del prezzo di lancio accattivante, si girava attorno alle 23 mila euro circa. Tra invece le altre impressioni vi siete concentrati anche sul segmento dei SUV, prima telecamere spente, mi dicevi che avete, insomma, approfondito anche la Edge, la nuova SUV che entra nella casa Ford, e un'Audi, la nuova SQ7. Sì, esatto, sono due SUV un po' diverse, la Edge affianca ovviamente la Cuga, affianca l'Ecosport, ed è il top di gamma tra i SUV in casa Ford, e invece l'SQ7 dell'Audi, anche qui, oltre 100 mila euro, V8 TDI, con per la prima volta un compressore elettrico. Questa è una novità mondiale ed è molto interessante, perché appunto regala una coppia esuberante sin dai bassi regimi e con prestazioni quasi da sportivo ormai. Poi Dario, non possiamo dimenticare le vostre prove, che sono anche un po' il punto che i vostri lettori apprezzano di più. Vi siete concentrati su due vetture cabriolet in vista della bella stagione, una piccolaina, la mini cabrio, che peraltro abbiamo avuto in studio qualche minuto fa, insieme insomma ai protagonisti dell'ufficio stampa e del brand manager di Mini, e poi anche la Porsche 911 Carrera da 375 cavalli. Sì, sono ovviamente due vetture radicalmente diverse, una 370 cavalli, 911 Carrera, non ha bisogno di presentazioni, 4 secondi netti da 0 a 100, una punta massima molto elevata, un piacere di guida davvero enorme, un motore esuberante, turbo, è molto divertente, ovviamente il prezzo impegnativo si parte dai 128 mila euro circa. All'opposto la mini, che invece è un mini cabrio diesel, con un tre cilindri da 116 cavalli, che grazie all'assetto resta comunque molto molto divertente, non è una scelta povera il tre cilindri assolutamente, è una vettura che si lascia guidare molto bene, grazie appunto all'assetto e al go-kart feeling, che è un po' il marchio di fabbrica del brand Mini. Anche in questo caso però il prezzo è abbastanza elevato, oltre 30 mila euro, scegliendo qualche optional. È una piccola di lusso, diciamo così. Esatto. Poi sempre tra le prove invece torniamo ad una vettura un po' più concreta, dedicata ai lunghi viaggi, magari per la famiglia, Honda HR-V. Sì, l'HR-V segna anche in questo caso dopo oltre dieci anni il ritorno di Honda in un segmento, quello dei crossover, da cui era assente da moltissimo tempo. L'HR-V è un'ottima vettura, in questo caso abbiamo un 1.6 turbodiesel da 120 cavalli, esuberante e ricco di coppia, molto piacevole da guidare. È soprattutto, anche in questo caso, una vettura molto concreta, con un ampio bagagliaio, spazioso all'interno, soprattutto per i passeggeri posteriori. Un assetto non troppo cedevole, non troppo turistico, quindi si lascia guidare anche molto bene, come spesso in casa Honda, anche in questo caso il prezzo può diventare abbastanza elevato se ci si lascia tentare dagli optional. Senza dimenticare, infine, prima dei saluti finali, la sezione dedicata al Motorsport con Lamborghini Huracan e Seat, Seat Leon Cupra Motorsport. Cosa vi hanno trasmesso? Abbiamo avuto la fortuna di provare in pista e vedere tutto l'enorme lavoro che sta dietro la squadra corse, il trofeo Lamborghini con la Huracan, e invece dare un'occhiata un po' a tutta la gamma Motorsport Leon, ma non solo anche altri Leon ST, tutti gli altri modelli proposti dal Motorsport Seat in pista. Quindi due approfondimenti abbastanza serie e lunghi. Grazie Dario per essere stato con noi, io rinnovo l'appuntamento in edicola ai nostri telespettatori per il numero di giugno e poi noi ci ritroviamo tra qualche settimana con il prossimo fascicolo, quello di luglio, e poi infine per i saluti delle buone vacanze. Perfetto, grazie mille a voi. E noi proseguiamo con Safe Drive. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi.